Rivoluzionare l'area tecnica dopo che nella stagione appena chiusa si è toccato il punto più alto nella storia del club e la scelta fatta dal Monopoli che dopo il quinto posto nel girone C di Serie C con eliminazione dai playoff solo per mano del Catanzaro nei quarti di finale, ma il sodalizio bianco-verde era arrivato così su nella sua storia, ha annunciato i saluti con Alberto Colombo, l'allenatore al quale è bastata una stagione per inserire il suo nome negli annali societari e ha individuato le due figure sulle quali imperniare la ripartenza Giuseppe La Terza per la panchina, Alfio Pelliccioni per la direzione sportiva, il tutto nei giorni in cui Francesco Rossiello, nell'ultima stagione presidente del Bitonto, ha acquisito ufficialmente il 50% delle quote societarie del club con l'altra metà del pacchetto azionario rimasta in possesso del presidente bianco-verde Onofrio Lopez, quello di La Terza è un nome diventato caldissimo nell'arco di pochissimi giorni, mentre il radiomercato si divideva infatti tra il ritorno in sella di Beppe Scienza e la scelta che portava Mirko Cudini, l'allenatore 43enne chiedeva e otteneva la risoluzione del contratto con il Taranto, guidato brillantemente per due stagioni, prima alla vittoria del girone H di Serie D e poi alla salvezza nel gruppo C di Serie C, pronto per lui un nuovo accordo proprio con il Monopoli a suggellare una crescita personale passata per gli anni a Fasano e poi appunto per la tappa dello Iacovone, ricca di significati in un solo biegno. Già nel fine settimana potrebbe arrivare l'annuncio nero su bianco e poi l'era la terza avrà il via, nel segno della continuità con il 3-5-2 visto negli ultimi anni a Monopoli e della valorizzazione del gruppo, vero punto di forza del club bianco-verde. Accanto a sé a guidare l'area tecnica, la terza avrà chi Monopoli la conosce molto bene, Alfio Pelliccioni nella scorsa stagione proprio in quel Catanzaro che ha eliminato i bianco-verdi dai play-off. Per il direttore sportivo si tratta di un ritorno in Puglia dopo l'esperienza della stagione 2017-2018, quando la squadra guidata da Beppe Scienza in panchina chiuse al sesto posto nel girone C e si qualificò per il primo turno dei play-off. Dopo le tappe a Cesena e Catanzaro, l'esperto dirigente cresciuto nel San Marino e passato anche per Sant'Arcangelo e Mantova, godrà di un accordo di durata biennale. Segni di programmazione e di voglia di guardare al futuro a medio-lungo termine, cambiando per rimanere se stessi. Filosofia di un Monopoli che guarda al prossimo campionato di Serie C con la prospettiva di inseguire obiettivi ancora più ambiziosi dell'ultima stagione.